Abbiamo parlato di tempo, perciò torniamo ad approfondire i diaframma. Elemento che ci permette di far entrare più o meno luce, regolato da questo. Spero che possiate vederlo. È praticamente un buco che fa entrare più o meno luce nel sensore. Come si usa in foto, come si usa in video e in quale occasioni possiamo utilizzare un diaframma più aperto o più chiuso? Tutti gli obiettivi soffrono quando utilizziamo tutto il diaframma chiuso oppure utilizziamo tutto il diaframma aperto. Le differenze sono che con un diaframma tutto chiuso avremo una diffrazione. Tutti i raggi che entreranno nell'obiettivo andranno a sbattere nel diaframma, si dividono e vanno a colpire sensore o pellicola. Se il diaframma è molto piccolo, cioè il buco è molto stretto, questi raggi si andranno a dividere in più frazioni. Perciò dividendosi in più frazioni si va a perdere della qualità. Ve l'ho detto in maniera molto veloce, ci sono tantissimi libri che spiegano questa cosa. Comunque il fatto sta che questo obiettivo, particolare obiettivo, Nikon 24 mm, può fotografare a 22 di diaframma, perciò è un diaframma molto chiuso, non sarà la sua situazione ottimale. Questo obiettivo funziona bene fino a 8, 11 e da 4. 4 è più aperto, 11, 8 è più chiuso. Diciamo che qui è il massimo della qualità di questo obiettivo. Più o meno tutti i obiettivi sono a metà della loro escursione, della loro apertura di diaframma, hanno il massimo della resa. Comunque su internet ci sono dei siti dove potete scrivere il vostro obiettivo. Ci sono dei professionisti che l'hanno testati, c'è scritto quale apertura è la migliore per l'obiettivo che avete. Viceversa parliamo dell'apertura massima. Questo obiettivo arriva a 2,8. Per essere un fisso non è super luminoso, ma comunque si ha una buona luminosità, considerando la compattezza. Questo obiettivo qui arriva a 2,8 e diciamo che è abbastanza nitido a 2,8, che diventano di solito, quando sono a massima apertura, diventano molto più morbidi. Perché appunto abbiamo un'apertura del diaframma, adesso questo qui di 2,8 non sarà gigante, comunque si ha un buco di diaframma molto più aperto. Perciò tutta la luce entra lì dentro e va a impressionare il sensore. Ma essendo un buco molto largo, diciamo che non abbiamo la concentrazione dei raggi sufficiente per avere una nitidezza maggiore. Ho sbagliato di dire sufficiente, perché nella maggior parte dei casi è sufficiente quello che abbiamo. Poi gli ultimissimi obiettivi che sono usciti negli ultimi anni, li stanno facendo anche a f1,8, io un 55, f1,8 è incredibile, a 1,8. Chiaramente a 5,6 è strepitoso, magari a 5,6, 4, diciamo che è il massimo della resa di quell'obiettivo, ma è quasi troppo tagliente, quasi i dettagli sono incredibili. Però per ogni cosa c'è il suo uso. Perché vorremmo avere un diaframma molto aperto? Perché il diaframma molto aperto diminuisce la profondità di campo. Se noi abbiamo un diaframma molto aperto, cioè un buco dell'obiettivo molto largo, abbiamo una profondità di campo ristretta. Vuol dire che se noi mettiamo a fuoco questo obiettivo e mettiamo a fuoco qua, qua da qui in poi sarà tutto sfocato. Perché? Perché abbiamo una profondità di campo ristretta. Viceversa, se abbiamo un diaframma molto chiuso, come potrebbe essere 22, che io non userei mai in nessuna proprio situazione, però a meno che non si sta accendendo emergenza, piuttosto io metterei un filtro nel di davanti se voglio avere così poca luce a impressionare la mia pellicola. Però facciamo finta 22 e io mi metto a fuoco qua. Tutto quello che sarà dietro sarà a fuoco. In una situazione di reportage va bene utilizzare il diaframma per avere un'esposizione corretta, per ottenere un'esposizione corretta. Ma a livello professionale io non utilizzo il diaframma. Secondo me il diaframma andrebbe utilizzato per creare un'immagine e comunicare una determinata cosa. E per l'esposizione ci sono le luci o le luci attorno a noi. Per esempio, voglio utilizzare un diaframma molto aperto? Posso usare un filtro nel di, un filtro nel di per togliere la luce. O se no posso posizionare il soggetto in una zona dove mi permette di utilizzare il mio diaframma magari a 2.8 per avere uno sfocato che mi interessa per comunicare una determinata cosa. Questa cosa qui è valida sia per le foto che per i video. Lo step, il miglioramento, nella nostra fotografia sarà quando noi cominceremo a usare il tempo, il diaframma e gli ISO non per una corretta esposizione ma bensì per trasmettere qualcosa. Per avere un'esposizione corretta dobbiamo utilizzare la testa, le luci, posizionare il soggetto in un determinato modo. Chiaramente, qui non si parla di reportage, il reportage è escluso. Stiamo dicendo proprio a livello di un set, come potrebbe essere un film, un servizio fotografico, un cortometraggio, un video musicale, uno spot pubblicitario. Il diaframma 1.4 nei video viene utilizzato? Sì, per determinate cose, ma diciamo che è molto molto aperto. Poi dipende anche dal sensore che noi utilizziamo. Su un full frame non avremo niente a fuoco. Per esempio, su un primo piano molto stretto a 1.4, su una macchina full frame, dobbiamo sempre avere a fuoco l'occhio quello più vicino all'obiettivo. Questa è una regola che bisogna sempre ricordarsi. Se noi abbiamo a fuoco l'occhio più vicino all'obiettivo e questo soggetto si muove, tutto andrà fuori fuoco. Perciò quand'è che viene utilizzato? Molto poco. Viene utilizzato per dare magari un senso su un primo piano di una persona spaisata potrebbe essere. Su un full frame, un diaframma così aperto, di solito si usa davvero poco. Magari si sta più un 2.8 quando dobbiamo avere un buon bocchè, un buon sfocato dietro. Su un micro 4 terzi magari di più, perché essendo un sensore così piccolo abbiamo meno profondità di campo. E questo è un vantaggio del micro 4 terzi che ne parlerò quando parleremo di ISO e sensori. Perché il micro 4 terzi può avere la luminosità, la luce che entra di un obiettivo che è f1.4 e avere più profondità di campo. Perciò potrebbe essere anche un vantaggio. Tutti vedono un micro 4 terzi come un vantaggio, ma non è sempre così. Cosa ci serve sapere del nostro obiettivo? Ci serve sapere i punti di forza che ha un obiettivo che a 1.4 ci dà una determinata vignettatura, per esempio. Una determinata flare, che il flare è il controluce. Quando noi utilizziamo un controluce in un obiettivo a 1.4 abbiamo un determinato controluce. Quando andiamo a chiudere abbiamo un altro controluce. Se stiamo fotografando o filmando a f8, un controluce del sole potremmo avere un effetto stella. Alcuni obiettivi fanno l'effetto stella. Dobbiamo conoscere la nostra attrezzatura per ottenere quello che vogliamo trasmettere. Per riuscire a comunicare quello che vogliamo trasmettere. Perciò filmare tutto a 1.4 è un errore che si fa all'inizio, per esempio. Specialmente quando è arrivata la 5T Mark II, la prima reflex che poteva utilizzare. Poteva fare video a una determinata qualità, utilizzare le lenti fotografiche, questo bokeh, questo sfocato, full frame. Tutti i video erano così. Tutti aperti, a diaframma apertissimo, tutto sfocatissimo. Sempre c'era questo gioco di cercare la messa a fuoco avanti e indietro. Mi ricordo i video musicali del 2010-2009 erano tutti così. Un obiettivo f1.4 è sempre la cosa migliore. Filmare tutto f1.4 o f1.2 è sempre la cosa migliore.